Buonasera, ben tornati al punto e facciamo il punto della settimana e il punto della settimana è presto fatto, abbiamo visto che c'è la Brexit che è scesa ormai in campo per quanto riguarda quell'iter che porterà la Gran Bretagna fuori dall'Europa, ma poi abbiamo anche qui in Regione che si sta lavorando sulla legge elettorale, una legge elettorale che viene comunque così commentata attraverso anche dei gossip sulla nostra Presidente, che anzi auguro ogni bene perché mi pare che ultimamente ha trovato anche un sereno orizzonte personale per cui questo fa bene anche per chi lavora in politica. Ma poi c'è qualcosa sul centro-destra, se è qualcosa di importante, perché a Roma Fitto, l'onorevole Fitto, leader dei conservatori e riformisti, poco tempo fa ha fatto un accordo con Tondo, con l'autonomia responsabile, ma pare che i senatori del gruppo di riferimento siano tentati da Berlusconi e quindi da Forza Italia. Quindi che cosa si configurerebbe? Si configurerebbe il fatto che magari abbiamo il nostro ex Presidente Tondo o futuro candidato che si troverebbe di colpo nelle braccia di Forza Italia e questo lo vedremo. Ma oggi è una giornata particolare, una giornata importante per il Friuli perché oggi sono 940 anni che il Friuli, la piccola patria è nata, nata il 3 aprile del 1077 e oggi molti hanno messo fuori le bandiere che il Friuli, di media Friuli ha dato in accompagnamento al giornale, un'iniziativa che ha avuto molto successo, quindi auguri auguri al Friuli. Ma per parlare di Friuli Venezia Giulia e di un progetto particolare che mette alle prove il centro-destra, abbiamo qui con noi il leader del progetto FUG, l'amico Sergio Bini che è un imprenditore, come abbiamo detto prima, ha siso in politica, cioè lui si prende la responsabilità di fare un progetto, di proporre un progetto nuovo. Ha girato tutto il Friuli, ormai ha presentato un po' dappertutto il suo progetto, fra poco ci sarà un importante appuntamento regionale, lo dirà lui quando, come e dove e quindi la parola a Sergio Bini. Buonasera a tutti e grazie Enzo per l'invito. Come dicevi tu, innanzitutto Forza e Friuli perché oggi è una data importantissima ed è giusto ricordarlo. Progetto FUG, sì, il progetto FUG sabato prossimo alle ore 10 all'ente Fiera di Udine, al padiglione numero 8, farà la prima convention regionale del proprio movimento. Verranno chiamate a raccolta tutte le persone che in questi mesi, le tantissime persone che in questi mesi si sono avvicinate al nostro movimento. Benissimo, quindi lì saranno presentati un po' gli organigrammi perché mi pare che l'idea di progetto FUG è quella di radicarsi in tutti i territori, in tutte, ormai non possiamo chiamarle province, ma chiamiamo ambiti territoriali così per convenienza e per comodità e quindi anche i responsabili che porteranno avanti una campagna elettorale, una campagna elettorale che mi pare di capire che è molto centrata sull'economia di questa regione, sul rilancio, sulla burocrazia e quant'altro. E' fondamentale, io dico sempre se tu vuoi rilanciare un paese, se tu vuoi rilanciare davvero una regione è da lì che devi partire, dall'economia e dai posti di lavoro, 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 non mi stancherò mai di dirlo, è da lì che può ripartire davvero la nostra regione. Che se ne dica, anche la nostra regione è in grave difficoltà economiche, gli indicatori non sono positivi, ve ne do uno per tutti, quelli dell'occupazione, noi siamo l'unica regione del nord-est che ancora non ha raggiunto i livelli pre-crisi, noi abbiamo ancora un delta del 4,2%, mentre abbiamo delle regioni tipo il Trentino Alto Adige o più 7%, la Lombardia più 2%, è il Veneto che ha già raggiunto il livello pre-crisi, quindi è lì che a mio avviso lo sforzo maggiore si dovrà concentrare. Quindi giovani e lavoro, queste sono due direttrici fondamentali. Poi c'è la burocrazia, perché anche altri che sono sesi in politica hanno trovato questo ostacolo. Questo è un grandissimo ostacolo, la burocrazia è una piovra enorme che sta rendendo difficile la vita di tutti noi, non solo di chi fa impresa, ma anche di di chi, come tutte le famiglie, ogni giorno si trovano a combattere contro mille leggi, mille orpelli, mille difficoltà. Insomma, un paese moderno, un paese che vuole rilanciarsi deve innanzitutto abbassare il peso, abbassare la pressione della burocrazia. Lei ha detto che è seso in politica per un motivo fondamentale, per rafforzare il centro-destra. È stato detto in maniera molto esplicita e quindi il centro-destra si sta riunendo. Io so che sono stati molti incontri tra voi leader di movimenti, di liste, eccetera, ma pare che Forza Italia in questo momento sia un po' in stand by, sta attendendo. Oppure avete già iniziato il confronto anche con Forza Italia. Ma no, ma guardi, guarda, io reputo fondamentale per una vittoria che ci auspichiamo tutti quanti possa arrivare nel 2018, la coalizione intera del centro-destra si riunisca e lavori assieme. All'interno di questa coalizione ci sono varie vocazioni, varie storie, però deve rimanere l'obiettivo comune, vincere, vincere assieme e vincere uniti. Credetemi, si sta lavorando, noi stiamo cercando davvero con molta umiltà di apportare quel qualcosa in più a una coalizione. Noi, dicevi giustamente tu, in questi mesi abbiamo incontrato tantissime persone, abbiamo fatto decine e decine di incontri in giro per il Fiori Venezia Giulia con l'intento di riavvicinare alla politica e quindi di portare indotte a una coalizione di centro-destra quei tanti voti delle tante persone che oggi non si riconoscono nei partiti tradizionali. Ecco, però ci saranno anche liste da fare, quindi come verranno scelti i candidati di comune accordo, verranno scelti con delle primarie interne, verranno scelti con uno screening particolare? Beh, guardi, questo devi chiederglielo ai partiti. Io sono convinto, anzi sono certo che la scelta e del futuro governatore e delle strategie per la prossima campagna delle regionali dovrà essere fatta dai partiti tradizionali. E poi c'è l'importante mondo civico che dovrà assolutamente dare un apporto fondamentale, io dico, per la riuscita dell'intrapresa. Quindi la parola aspetta e deve aspettare come è giusto che sia i partiti. Ecco, poi c'è anche il Comune di Udine. Il Comune di Udine è un pallino fisso mio, ma comunque molti che analizzano un po' la politica regionale sono concordi sul fatto che Udine sarà di rimente per quanto riguarda la leader psifutura, la vittoria del centro-destra. Ecco qui voi avete fatto degli accordi particolari, mi pare, con alcuni centri civici se non sbaglio, oppure siete in trattativa o li guardate con benevolenza? Beh, se non fosse altro per la concomitanza della scadenza elettorale, reputiamo fondamentale anche il Comune di Udine da troppi anni in mano a una coalizione di centro-sinistra che lo dico davvero a voce bassa, ma con determinazione ha portato la città di Udine a quello che è sotto gli occhi di tutti, quindi una città che si sta spopolando, il commercio che sta soffrendo in maniera importante, poca vita, poca vita proprio partecipata all'interno del Comune. Certo, noi stiamo parlando con le diverse, noi siamo un'anima civica, quindi ci risulta semplice, ci risulta facile dialogare con tutte le anime civiche presenti, già presenti nella città di Udine. Ecco, previserete comunque un candidato che sia fatto una coalizione con il centro-destra o un candidato che verrà espresso dal centro-destra, no? Per cui a Udine vedo tanti che sono autocandidati, penso a Bertossi, penso a Colauti, penso allo stesso Fontanini, eccetera. Ecco, il rapporto con la Lega come l'avete? Il mio rapporto con la Lega è un rapporto davvero ottimo, lo dico non per captarsi o benevolenza, ma lo dico perché è un dato di fatto. La Lega ha un segretario che a me piace molto, una persona giovane, capace e assolutamente carismatica. Stiamo già parlando da diversi mesi assieme, insomma è un ottimo, un ottimo rapporto. Ecco, nel goriziano si va a votare fra poco a Gorizia, no? E quindi voi sosterete anche lì il centro-destra con una lista preparata sul posto? No, come ho già avuto modo di dire, in precedenti occasioni noi ci confronteremo nel 2018, quindi non prima del 2018. Venerdì sono stato invitato a Gorizia dalla presenza del senatore Quagliariello, del candidato del centro-destra. Perché è leader del Movimento dell'Idea. Ziberna, esatto, a presentare anche il mio progetto, io ne sono davvero onorato. Dico scherzosamente, Ziberna avrà un compito molto importante perché dovrà, e sono certo, seguirà un sindaco molto, molto capace, molto importante che ha fatto molto per Gorizia. E' molto amato. E' molto amato, davvero una persona di assoluto spessore. Quindi dovrà faticare, non poco, per cercare di, come dire, di portare avanti quello che già tanto ha fatto il buon sindaco Romoli. Ecco, poi c'è una lista del centro-destra che è interessante, è quella di Energia per Italia, del dottor Parisi che è stato candidato a Milano, eccetera, no? E mi pare che è guardato da voi anche con un certo interesse, con un certo attenzione, insomma, no? Questa lista. Cosa ne pensa lei? Noi stiamo guardando, beh con Stefano Parisi c'è un ottimo rapporto, ha avuto, anche lui ha avuto la convention sabato, se non erro, ma guardiamo a Stefano Parisi come guardiamo quali a Riello o come guardiamo a Fitto. Cioè noi siamo interessati a tutti quelli che sono i nuovi progetti in grado di rilanciare il centro-destra. Più intelligenze, più anime si mettono assieme, più forza daremo a un nuovo centro-destra nel nostro paese e nella nostra regione. Ecco, poi c'è il rapporto un momentino anche con le forze, diciamo così, parasociali, no? Quindi abbiamo anche movimenti che sono sul posto, ambientalisti, eccetera. Come inquadrate la situazione con il mondo degli ambientalisti, per esempio? Ma guardi... No, no, sono sincero no, ma io sono di un'idea che per vincere c'è bisogno di sommare veramente tutte le forze presenti in campo, dalle più grandi alle più piccole. Quindi l'unione fa la forza, quindi benvengano, come dire, idee, programmi, contenuti per portare una coalizione del centro-destra a una vittoria nel prossimo 2018. Ecco, abbiamo, il tempo è scaduto, Big Bang come si dice ha detto stop, no? E quindi io le chiederei, ti chiedo uno slogan per capire un po' che lotto di aprile avete questa convention. Beh, mi risulta facile. Friuli Venezia Giulia per un Friuli forte, vivo e grande. Questo è il nostro mantra, questo è il nostro slogan che, come dire, ci appartiene. Ecco, allora io ringrazio Sergio Bini per la sua partecipazione e quindi l'8 aprile vi farà la convention e capiremo, svelerà un po' di più di quello che piano piano ho detto qui, sempre abbiamo fatto di scopa a Telefriuli con la sua disponibilità. Allora, buonasera a tutti con Telefriuli, io vi lascio al telegiornale, ancora buonasera e auguri per la convention. e vi aspetto tutti. Grazie. Perfetto, arrivederci.